Importante evento per il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in Norvegia. Il presidente Tommaso Pellegrino infatti ha sottoscritto un accordo di collaborazione tra l'ente da lui guidato e il Parco delle Balene, primo parco marino norvegese. Presenti anche il ministro dell'Ambiente Sergio Costa e l'ambasciatore italiano in Norvegia Alberto Colella. Il ministro Costa ha sottolineato come in Norvegia attivisti dell'ambiente insieme a bambini hanno costruito le cattedrali della speranza, raccogliendo i rifiuti di plastica in spiaggio provenienti da molti paesi europei, hanno costruito delle casette che simboleggiano la lotta al marine litter. Il presidente Pellegrino ha fatto sapere che tra qualche settimana saranno presenti i risultati del primo studio della caratterizzazione delle microplastiche delle nostre aree protette. Il presidente Pellegrino ha fatto sapere che tra qualche settimana saranno presenti i risultati del primo studio della caratterizzazione delle nostre aree protette.